E il motivo per cui i comici venivano da quella zona dipendeva dalla presenza del circuito Bost tra le cosiddette montagne ebraiche dove si lavorava e si apprendeva il mestiere. Credo si spieghi così che la maggior parte dei comici di origine ebraica vengano da quella regione o si sia trasferita lì. Molti fra i più importanti comici americani hanno provato i loro numeri nel circuito Bost una catena di alberghi con clientela israelita sparsi fra i monti Catskill nello stato di New York. Jerry, aiuto cameriere presso l'Hotel Browns di Lockshell Drake lo stesso al quale lo vediamo arrivare per un'anteprima del film Il nipote picchiatello si fa notare per la sua eccentricità e il suo talento di guastafeste prima di debuttare in un'azione mimica eseguita con accompagnamento musicale registrato sul disco. Avevo cinque anni quando debuttai in teatro a fianco dei miei genitori seppi sono alcuni anni dopo che erano stati pagati per la mia prestazione. I genitori di Jerry Danny e Ray Lewis dopo cinquant'anni di vita dedicati allo spettacolo ti chiedi da chi è partita la spinta iniziale a me l'ha data mio padre è stato lui il mio maestro era un uomo eccezionale quello che io ho fatto l'aveva già fatto lui prima di me è anche molto meglio. Figlio d'arte dunque Jerry dopo una breve carriera scolastica presso il collegio Irvington nel New Jersey segue la classica trafina fa il cameriere in un ristorante il commesso lavora in un cinema tutte occupazioni di breve durata perché presto e senza un particolare incoraggiamento da parte dei genitori fa il suo ingresso nel mondo